È un momento di riflessione tra amministratori dei comuni dell'ambito territoriale 6, proposto dall'amministrazione di Grottagli e Comune Capofila, in preparazione alla Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dall'ONU nel 2000. Di fronte a un sempre maggiore numero di arrivi di persone in stato di necessità e bisogno che raggiungono e popolano i nostri territori, spesso in condizioni di disagio, è necessario confrontarsi per condividere e progettare interventi, politiche e buone prassi al fine di costruire le condizioni per favorire l'inclusione sociale e la buona convivenza. Questa tavola rotonda è stata l'occasione per parlare di immigrazione e protezione, di un sistema di accoglienza che deve essere ampliato necessariamente sui nostri territori. È stato un modo anche per parlare di buone pratiche, di ciò che può essere ancora migliorato. Il sistema di accoglienza deve essere costruito in maniera precisa, in maniera dettagliata, avvalendosi di competenze professionali e a tal proposito abbiamo comunque raccogliato l'invito proprio dell'associazione Babele e di tutti i suoi operatori e operatrici affinché si potessero incontrare anche gli amministratori dei paesi di ambito, delle città di ambito, proprio per rendere più omogeneo un sistema di accoglienza che si è dimostrato negli anni vincente. L'attuale situazione migratoria per nulla straordinaria necessita dunque non solo di risposte strutturali ma soprattutto capillari e diffuse perché queste persone possano essere accolte nel modo migliore, con professionalità specializzate, strutture idonee e programmi di inclusione che prevedano percorsi personalizzati, possibili solo in contesti di accoglienza debitamente organizzati.